eccoci nel primo di una serie di video dedicati alle decorazioni natalizie in questo andremo a realizzare delle palline appunto quello che ci servirà saranno delle palline di polistirolo delle puntine io ne utilizzerò circa 200 e in questo caso io non le utilizzo argentate ma ovviamente voi potete utilizzarne anche dorate o di altri colori e i gancetti per appunto andare ad appendere le palline io ne ho in molti di più rispetto a quanti ne sono necessari vado quindi con il mio gancetto ad infilarlo all'interno della pallina andando a creare una sorta di anello che mi servirà appunto per andarlo ad appendere poi al ramo del mio albero di natale e fatto questo dopo essermi assicurata bene della misura e della della dimensione vado ad iniziare a posizionare le le puntine è un lavoro estremamente semplice si può fare senza alcuna difficoltà l'unica difficoltà che io ho avuto è quella di prendere le puntine con le unghie ma per il resto estremamente semplice quindi vado a posizionare le puntine e vado a farlo in maniera concentrica quindi vado a realizzare dei cerchi mano a mano che appunto si vanno ad ingrandire sempre di più andando leggermente a sovrapporre le puntine tra di loro cercando di lasciare meno spazio possibile per far vedere poi sotto ovviamente la mia pallina di polistirolo proseguo in questa maniera andando avanti è un lavoro abbastanza noioso però poi il risultato è decisamente valevole del tempo che abbiamo perso nel nell'andare a posizionare le palline quello che vi consiglio è di andare a posizionare molto bene il gancetto perché tutte le palline le puntine scusate insieme vanno ad appesantire decisamente la pallina quindi il gancetto deve essere posizionato molto molto bene ma è una questione solo di una minima attenzione in più quindi andiamo avanti e risultato finale è questo quindi una pallina molto luminosa che appunto in questo caso è argentata ma potete farla di qualsiasi colore potrebbe essere anche una pallina simile uovo tipo per uovo di harry potter se volete ok detto questo ci vediamo quindi al prossimo video e lasciatemi i vostri commenti qui sotto ciao e grazie per aver visionato il video